Beh dai però io non reputo onestamente questa cosa come una roba negativa, cioè ci può essere anche il governo più di sinistra della storia repubblicana, della storia della Repubblica Italiana, e può andar bene, non è quello il problema. Quindi sta roba qua per esempio che dobbiamo affossare il governo più a destra della storia repubblicana, come dichiara lei, davanti a tutti la festa dell'Unità del PD che tra l'altro, dove era? Mi sembra Legge Emilia, comunque era gremita la sala, era gremita di persone che non avevano trovato un posto, però come democratico, partito democratico, ehi anche te se non c'è un posto, c'hai 90 anni? C'è una stampella? Stai in piedi? Che ti devo dire? Non hai trovato un posto? Che cosa vuole? Scusi, non ho capito. Stai in piedi, purtroppo lei è arrivato tardi, che possiamo fare? Mi spiace. Ecco, per questo, a bestia a voi, e nanti se avessi 100 mila iscritti, attivate la campanella sotto per ogni aggiornamento del canale di cuore, grazie a ognuno di voi, per questo sarebbe stata fischiata per l'organizzazione. Cioè, non è tanto, allora, su questo discorsetto che ha fatto del governo più di destra nella storia repubblicana, erroramente i giornali di siti hanno detto, no, della storia italiana, no, della storia repubblicana. L'italiano, lo so che non è per tutti, ma è italiano e italiano. Della storia italiana, della repubblica italiana. A quella, questa frase ha scatenato le persone in piedi. È lì, è lì, è lì, è lì, applaudita, eh, applausi. Per quanto riguarda invece le persone che stavano in piedi, che non avevano posto, di una certa età, non è stata lei fischiata. Sono stati dei fischiati a quelle persone, quelli più giovani, che non hanno lasciato il posto a queste persone. Tanto che, fuori telecamere però, Lashlein e altri del PD avrebbero invitato questi, per favore, a fare quel passetto in più, anche che ha 60 anni, 70 anni, vede che quello è più anziano di lei e non si legge in piedi, ed è il posto. Cioè, questo, ragazzi, è solamente una piccola postilla di quello che sta, che succede sempre, come al tram, la metro. Tutti sono Chiano Reeves che si alzano in piedi e lasciano in posto. Il grande Chiano Reeves, Nio di Matrix, John Wick, grandissimo, un signore, nonostante tutto quello che ha passato. Dovrebbe essere il più grande della storia, per quello che ha passato, e invece è un uomo per benissimo. Tornando alla politica, ma qual è il problema che è di destra, troppo di sinistra, troppo di destra? Cioè, ancora sta cosa pure del bonifico unico che il governo lo vuole togliere. Sta cosa della sanità, contro i poveri. Vabbè, ho capito, c'è il tuo popolo, devi dire qualcosa di forte. Sta roba ogni volta è contro i poveri, la destra, la melonia, è contro i poveri. Vi faccio un esempio. Voglio vedere chi è d'accordo con me o chi no. Non c'è nessun problema, commenta, eh, se non sei d'accordo. Corsi di formazione retribuiti. Quasi a senteismo. Perché il reddito di cittadinanza aspettano ancora tante persone, e ancora ho la speranza di volerlo. Soldi senza far niente. Cioè, dalla serie voglia di lavorare a Sant'Avador, se sarebbe questo contro i poveri. Corsi di formazione retribuiti. Non sono promeloni, ma questa cacata per me non regge più nel 2024. Oh!